Buonasera, benvenuti al Palazzo delle Esposizioni, ci ritroviamo qui per quello che è l'ultimo appuntamento della serie di conferenze e di incontri dedicata alla mostra di Frida Kahlo e anche per questa serie di incontri noi dobbiamo rinnovare i ringraziamenti al Governo del Messico e all'ambasciata messicana, in particolare all'ambasciatore Miguel Luis Cavanias che è qui con noi stasera perché ci ha molto supportato nell'organizzazione di questa serie di importanti eventi. Chiudiamo non a caso questa serie di incontri in un modo forse abbastanza singolare ma dovuto e credo estremamente interessante. Approfittando del fatto che forse la figura femminile della pittura del Novecento più importante è proprio Frida Kahlo ed è messicana, abbiamo pensato di capire che cosa succede oggi in Messico con alcune delle artiste donne che operano appunto in Messico. Quindi qua fuori avrete visto alcuni quadri, pochi purtroppo, ma alcuni quadri di Carmen Masa del Masso che sta qui con noi questa sera e di Irma Palazzo e spero che anche lei sta qui con noi in prima fila. Darei adesso la parola all'ambasciatore Miguel Luis Cavanias che introduce il tema della serata. Grazie Miguel. Grazie Mario. Buonasera a tutti voi. Ringrazio per essere qui in questo magnifico auditorio. È per me un grandissimo piacere partecipare in questa serata dove avremo una una sessione dedicata all'arte e alla cultura del Messico. Gentilissimo dottor Mario De Simone, direttore generale del Palazzo dell'Esposizione, signore e signori, come ha detto Mario De Simone, questa è la ultima conferenza del ciclo che il Palazzo dell'Esposizione ha coordinato con impeccabile organizzazione. Di cui ringrazio il dottor Mario De Simone e tutto il suo staff, Matteo Lafranconi, Marco Verti, Daniela Picconi, che fra molti altri hanno messo a disposizione lavoro ed impegno affinché la mostra soffrì da calo e gli eventi ad essa collegati riscuotano pieno successo. L'Italia e il Messico intrattengono da sempre relazioni amichevoli, ma di recente hanno ribadito la volontà di cooperare maggiormente in tutti gli ambiti. L'Esposizione soffrì da calo testimonia proprio questa affinità culturale e tale decisione di collaborazione. La mostra e gli eventi collegati, la resegna cinematografica e le conferenze nonché la piccola ma significativa mostra con opere delle artiste Carmen Massa de Del Masso e Irma Palacios, in esposizione nell'ambito della grande resprotettiva di Frida Calo, sono senza dubbio alcuno un successo. Per concludere le conferenze, oggi ancora una volta si renderà omaggio a Frida Calo, quale artista e dalle artiste che, come lei, hanno dedicato parte della loro vita all'espressione artistica. La curatrice Maria Campitelli, dell'Associazione Gruppo 78, centrerà il suo intervento su riconosciuti pittrice Quilirma Palacios, Monica Castiglio, Tania Candiani e Carmen Massa e questa ultima è qui, con noi questa sera, intervendrà a conclusione dell'odierna conferenza. Sono molto grato a Maria Campitelli per aver accettato di volerci parlare di pittrici messicane contemporanei, vista la sua conoscenza della materia. L'amica Maria presiede Gruppo 78, che è un'associazione senza fini di lucro di Trieste, che da anni ha scambi culturali con il Messico, grazie al Ponte Internazionale di Arte Contemporanea Italia-Messico. E proprio da questa collaborazione feconda è esorto il progetto MEX PRO, che da gennaio fino a settembre di quest'anno ospita più di 80 artisti messicani in diversi musei e gallerie trestiene, che con molto successo stanno esponendo una parte significativa delle diverse espressioni dell'arte messicana dei nostri giorni. Specialmente una mostra, attualmente a Trieste, testimonia il talento delle pittrici messicani contemporanee, molte di loro affermate internazionalmente, come Monica Castillo, Betsabe Romero, Sofia Eceverria, Estrella Carmona, Luciana Scheda, Perla Krausi, Magali Lara, Irma Palacios e Carmen Massa. E di cui questa ultima sono esposte tre opere nel vicino foyer che il pubblico può vedere da oggi per quindici giorni. Irma Palacios, nata a Guerrero nel 1943, compagna dell'altrettanto pittore astratto Francisco Castro Legnero, ha sviluppato un linguaggio estetico che l'ha identificata con altri artisti della sua generazione. Dopo aver studiato nella scuola di pittura, scultura ed incisione La Esmeralda, di Città del Messico, ha ottenuto vari riconoscimenti importanti, come le borse di studio Simone Guggenheim e del Sistema Nazionale dei Creatori di Arte, nonché il premio della Biennale di Pittura Rufino Tamayo. I suoi quadri formano parte di diverse collezioni del Museo Nazionale di Arte Moderna e tre di questi, come dicevo, sono visibili qui fuori. Nella docente sala abbiamo anche opere della signora Carmen Massa, di Del Masso, che ci onora oltremodo con la sua presenza e che ci parlerà del suo lavoro e della piccola mostra esposta sempre nel foller intitulata «Los Colores de mi México» e «Colori del mio México». Anche Carmen Massa ha studiato anche, scusi, anche Carmen Massa ha studiato nella scuola La Esmeralda, proseguendo le studi presso la scuola di arte di Belgio. Fine dal lì anni 80 ha esposto in diversi galleri di arte tanto messicani come statunitensi. Una menzione speciale va alla sua partecipazione al Forum Universale delle Culture, ospitato in Messico nel 2007 con la mostra «Il riscatto del colore». Per concludere, l'Ambasciata del Messico in Italia desidera sottolineare con gratitudine la collaborazione prestata da diverse istanze culturali messicani che hanno reso possibile la grande resprotettiva di su Frida Kahlo, respondendo in modo entusiasta alla iniziativa del Palazzo delle Exposizioni e del Comune di Roma, l'Instituto Nazionale delle Bellearte, il INBA, il Banco Nazionale del Messico, Banamex, il Governo del Estado di Tlaxcala, il Governo del Estado Mexicano di Tlaxcala, il Ministero degli Affari Esteri ed il Consiglio Nazionale per la Cultura e le Arti, il CONACULTA. Per continuare, do la parola alla curatrice Maria Campitele. Molte grazie a tutti voi. Buonasera a tutti. Ringrazio l'Ambasciatore e tutti i messicani che ho conosciuto che mi hanno invitato oggi qua a riferire dell'arte femminile contemporanea messicana e che mi permette anche di ricollegarmi al progetto a cui già ha fatto cenno l'Ambasciatore, al progetto che abbiamo in atto a Trieste e che si intitola globalmente appunto MEX PRO, che è un progetto che riguarda appunto il Messico. MEX PRO come progetto, ma anche questo PRO ha un significato di a favore di, insomma, è bene auspicante e che è un progetto di scambio appunto fra artisti italiani e artisti messicani. In questa mostra che adesso noi ospitiamo a Trieste e che si intitola MEXICO circa 2000 e che appartiene al grande collezionista José Pinto Mazzal di Città del Messico e che è supportata anche da un importantissimo museo a Torreon, il Museo Arocina, nel quale lavora e coopera soprattutto il suddetto collezionista Pinto Mazzal. Ecco, con questo supporto noi siamo riusciti a portare, e credo che sia per la prima volta non solo in Italia ma in Europa, a portare ben 80 artisti messicani, di cui finalmente possiamo parlarne, possiamo avvicinarli, capire come si esprimono, anche cosa consiste il loro mondo e tra di essi ci sono appunto tante artiste messicane. Alle spalle abbiamo questa grande presenza di Frida Kahlo, proprio questa mattina essendo venuta appositamente qui da Trieste ho approfittato per vederne la mostra e certamente una personalità di tale rilievo di fronte alla quale non si può rimanere indifferenti e che testimonia oltre alla sua tragedia, alla sua passione personale, una grande capacità espressiva, una grande volontà di riscatto anche, riconoscendo nell'arte una possibilità di recupero, anche sotto certi aspetti non tanto direi soltanto terapeutico, ma proprio di rinnovo e di aiuto nella vita di ogni giorno e in particolare nella sua drammatica vita. Ecco, questa presenza certamente ha profondamente incentivato il mondo culturale al femminile e le artiste di cui io cercherò di parlarvi adesso e magari citerò anche qualcun'altra oltre a quelle programmate avendone conosciute parecchie appunto in questa occasione di questa grande mostra a Trieste e ci dicono i cambiamenti, i passaggi in avanti che sono accaduti dall'esperienza di Frida Kahlo che si è collegata da un punto di vista linguistico a svariate esperienze, a quella surrealista, realista, realismo magico e via dicendo e essendo cambiate le cose nel tempo, nel mondo, dappertutto, anche in Messico ci siamo trovati di fronte a situazioni diversificate. Molti artisti e artiste negli ultimi anni, negli ultimi decenni si sono ispirati e sono maturati attraverso una conoscenza e l'esperienza dell'arte europea. Nella mostra che noi abbiamo appunto a Trieste possiamo constatare questo, che c'è questa base di raffronto, questo fondamento culturale che si ispira ai grandi movimenti che si sono svolti nel secolo scorso dagli ismi degli inizi del secolo, cubismo, futurismo, dadaismo, astrattismo eccetera, alle successive avanguardie degli anni 60, le seconde avanguardie, insomma c'è traccia indubbiamente nel mondo messicano. Tuttavia al di là di questo, di questa conoscenza, di questa informazione europea, dobbiamo asserire, insomma verificare, che c'è comunque un imprinting culturale tipicamente messicano che si riallaccia anche alle precedenti culture precolombiane, ricchissime, svariate e che hanno prodotto una cultura eccezionale, come ben sappiamo, e che in qualche modo è sottesa anche nella cultura attuale. Quello che io ho riscontrato, conoscendo questi artisti e venendo a contatto con i loro lavori, una grande forza creativa, una grande energia. Se, e mi auro, qualcuno di voi verrà a Trieste a vedere questa grande mostra di 80 artisti messicani, credo che la prima cosa che colpisca, colpisce innanzitutto in Frida Kahlo, ma sto parlando adesso di altri versanti, è l'energia, la forza di energia che emana dalle opere di questi artisti, artiste comprese. La prima di cui vi racconterò qualcosa e di cui vedremo e cercheremo di leggere soprattutto le opere è appunto Irma Palacios. Irma Palacios che, essendo nata nel 43, nel secolo scorso, ha una settantina d'anni e di una generazione ormai avanti, diciamo, che ha maturato certe esperienze che per lei hanno significato fondamentalmente l'esperienza astratto informale. Si è ispirata anche all'informale europeo, sicuramente, e spagnolo in particolare, e quello, direi, specificatamente di Tapies. E lei è rimasta fedele a questo linguaggio informale, astratto, per sempre. Qui abbiamo due o tre opere qua fuori, sposte nella piccola mostra, che già ci raccontano tutto di lei. Questo amore per il colore, questo amore per la materia come tale, con la quale lei dialoga, colloquia quotidianamente, stende delle pennellate sulla tela o sulla carta, le manovra, ci insiste, ci sovrappone altre pennellate, le toglie. Cioè, ha veramente un dialogo vitale, direi, forte, scusate, con la pittura. Vi faccio vedere alcune cose. Forse è il caso di abbassare... Vediamo. Se si vede bene? Benissimo. Beh, questo è un quadro di qualche anno fa, è una pittura su carta, ed è un omaggio a un artista di origine ungherese, quindi europeo, Gunter Bress, che però è vissuto fondamentalmente in Messico e che ha prodotto un'arte assolutamente astratta, ma di un'astrazione, adesso qui non ho il modo di farvi vedere cose sue, un'astrazione più rigidamente geometrica. Invece già qui, in queste forme che vediamo, che sono come addombrante delle forme su cui si sovrappongono queste altre forme più piccole, più piccole tondeggianti, è un omaggio a questo artista, in quanto distingue delle forme, c'è un'organizzazione, c'è una composizione in questa superficie. In realtà, dopo, andiamo avanti con altre cose, ecco, un'opera come questa, che non ha titolo, ecco che vediamo che ha abbandonato questa organizzazione di forme che era dovuta all'omaggio, all'influenza che aveva avuto da questo pittore inizialmente e si esprime fondamentalmente attraverso il colore, attraverso il rigurgito, la forza intrinseca che c'è già di per sé nella materia colore. Quindi le forme si disgregano, si sovrappongono ed è praticamente una pittura emotiva fondamentalmente, nel senso che i colori e le forme che vediamo accennate, slabrate, dislocate, sovrapposte, corrispondono alle sue sensazioni, alle sue emozioni, a ciò che lei pensa o prova in quel momento e che vuole tradurre in quadro. Ecco, qui un'altra opera, anche questa non ha un titolo preciso, è di altro colore. Lei si è ispirata fondamentalmente agli elementi naturali, agli elementi fondamentali della terra. La terra innanzitutto, la terra è proprio l'elemento primario da cui lei trae ispirazione e produce, ma anche l'acqua, ecco questo ci fa pensare all'acqua come delle foglie vaganti sul lucichio dell'acqua. Oppure, ecco, questa è un'opera che assomiglia molto a un'altra che si intitola Letti di Grano e che abbiamo esposta a Trieste, con queste forme oscure, più compatte se vogliamo, che alludono a una dimensione paesistica in qualche modo, dove cielo e terra si confondono e si sovrappongono. I colori chiaramente corrispondono ai colori interiori che lei ha dentro di sé, ma sono i colori del Messico, sono colori caldi, aranciati, gialli, marroni, su cui lei lavora fondamentalmente. Ecco, anche questo, per esempio, vedete, sono tutte opere informali dove è difficile riconoscere qualcosa, ma non è questo che le vuole farci vedere, non vuole che noi riconosciamo determinati soggetti o cose. È un diffondersi, un espandersi di forme approssimative, giocate molto bene nella composizione, nell'accostamento dei colori, nei lucichi di bianco che si sovrappongono sui viola, sugli aranciati e mescolandoli insieme e sovrapponendoli, ripeto, dialoga con queste forme, si esprime, è felice di fare questo lavoro perché si riconosce in esso e tenta di comunicarci questa felicità di lavoro che lei prova nel sovrapporre, nel mescolare, nel lavorare, nel mischiare proprio dentro questi colori. Ecco, questo è chiaramente un'immagine che ci riconduce ancora una volta all'acqua, alle nifè, addirittura potremmo avere un riflesso di Monet, se vogliamo, le famose nifè di Monet. Ecco, qui riconosciamo qualcosa, ma anche no, perché sono un'infema potrebbe essere anche qualcos'altro, sono forme non decifrabili definitivamente che galleggiano su questo fondo che indubbiamente ci fa pensare all'acqua e che ci dicono sempre, vedete qui in questo caso non c'è neanche un orizzonte, è una dimensione unica praticamente, come nell'astrazione già dall'inizio del secolo scorso, soltanto che questa astrazione vive della forza del movimento del colore, dell'energia, direi, del colore antiché configurarsi in forme definite. Ancora questo si intitola specchio d'acqua, ancora dei riflessi come delle gocce ingrandite che vibrano alla luce contro il fondo di questo acqua, mare o lago, non sappiamo, ma non ha importanza. E ancora una volta una composizione lirica della natura attraverso la sua sensibilità di sentire, di vedere, di leggere la natura attraverso l'enfasi, la forza, l'energia del colore. Questo è ancora un quadro che ci riconduce all'acqua, possiamo riconoscere qualcosa, delle forme arboree forse, ma ha importanza fino a un certo punto che noi riconosciamo o non riconosciamo qualcosa. Perché anche qui l'essenza e la composizione, la sapienza del colore, di come è sovrapposto e usato questo colore. Cioè è diventata importante, è diventata grande, perché ha saputo col colore dire se stessa, le sue emozioni, il suo mondo, ma con una grande sapienza cromatica, con velatura e sovrapposizione. Cioè chi se ne intende di pittura guardando un'opera come questa capisce che dietro a monte c'è una lunga, profonda cultura. Ecco, qui per esempio vediamo, potrebbero sembrare dei prodotti naturali, dei semi ingranditi, i prodotti della terra. Ama la terra, riproduce la terra e i frutti che essa dà. Questo è molto scuro, lo leggiamo fino a un certo punto, anche qua. È un'opera dove linee, forme si intersecano, si sovrappongono, creano un'onda emotiva che l'artista sente, che tenta di comunicarci e che ci comunica sicuramente attraverso la forza di queste forme, in formi appunto, dove il colore è assolutamente protagonista. Anche qui, questa è un'opera di dimensioni molto grandi, avevo un'altra opera simile a questo, dove in primo piano c'era l'artista stessa, ma qui non ce l'ho adesso, da cui si capisce, è formata da sei parti, vedete, unita insieme, ed è la terra ancora. La terra, il cielo, potrebbe essere anche l'acqua, perché vediamo anche dei toni bianchi, dei toni azzurri. E poi questi o semi ingranditi, o foglie, qualche leggero cenno come di rami, di stecchi, eccetera, che alludono anche al deserto, a quelle che sono le caratteristiche vere della terra del Messico, e che lei ha assorbito molto bene e che ha fatto diventare opere d'arte. Questa è una stampa dove c'è un motivo ripetitivo, un'acquatinta, tecnicamente parlando, che ancora una volta ci produce una forma che ha un suo ritmo di ripetendosi nello spazio, e che comunque è sempre una forma astratta e che non riusciamo e non ha senso a decodificarla. Qui anche ci sono dei segni neri che si compongono in un certo modo, che possono alludere a piante, a strutture in qualche modo della terra, del mondo vegetale, del mondo naturale, ma che sono sempre trattati con grande e personale libertà. Una piccola sosta, nel senso che, cambiamo registro, ma andiamo da un'altra artista, Monica Castillo, un'artista anche questa molto importante, che con poche mostre personali si è affermata nel mondo messicano, non solo, ma nel mondo internazionale. Ecco, questa è più giovane, è nata nel 61, nel secolo scorso, è di un'altra generazione proprio, e rappresenta veramente un altro mondo. Questa è un'artista concettuale, quello che vogliamo definire noi critici e curatori d'arte. Cioè, sotto certi aspetti, e lo vedremo, potremmo ricondurla anche a Frida Kahlo, nel senso che il tema suo predominante per molti anni, dal 93 al 2004 esattamente, è stato l'autoritratto. Tutti sappiamo che l'autoritratto è il tema dominante di Frida Kahlo. Ma mentre Frida Kahlo, con i suoi ritratti, cerca di rispondere alle problematiche esistenziali, i suoi personali, al dolore, soprattutto, alla sofferenza che la vita comporta in lei in modo particolare, questa artista, Monica Castillo, non cerca nella pittura risposte, ma pone domande, piuttosto, attraverso la pittura. Cioè, il suo è un procedimento, come vedremo adesso, del tutto razionale, del tutto analitico, esattamente l'opposto non solo di Frida Kahlo, concettualmente parlando, ma l'opposto anche di Irma Palazios, che abbiamo visto poco tempo fa, perché lei produce un'opera attraverso la quale ci dice le sue emozioni, attraverso un colore forte, pieno di energia, di pulsioni, di vario tipo di passione, proprio direi, Monica Castillo procede in tutt'altro modo. Ragiona soprattutto, cerca, si interroga che senso abbia oggi fare pittura nel mondo contemporaneo, un mondo così stravolto, così cambiato, dove la tecnologia è dominante, ma lei continua a chiedersi perché facciamo pittura, come possiamo fare pittura oggi, che senso a fare pittura oggi? Vediamo. Ho questa opera che vi faccio vedere, ve la faccio vedere perché compare nella mostra che abbiamo allestito a Trieste, alle scuderie del castello di Miramare. La Castillo, Monica Castillo, è presente a Trieste con quest'opera qui, che ha un titolo curioso, Riposo con Palloncino. Questa è un'opera precedente alla ricerca degli autoritratti, quella di cui ho parlato un attimo fa e che si snoda tra il 93 e il 2004. È di qualche anno precedente, fa parte di un altro ambito culturale, ancora vagamente surrealista, con una pittura comunque ben definita, compatta, precisa, stesa molto bene, dove appare questa strana figura disposta su una maca, spero che riusciate a leggere, non so come si vede qui, ma penso che si veda bene, ed è disposta in una maca, sta soffiando in un palloncino, ecco perché si chiama Riposo con il palloncino, che poi alla fine, un tanto riposo per la verità non risulta, perché vedete che ha un occhio ma abbastanza sbarrato e sembra che faccia piuttosto fatica a gonfiare questo palloncino, e quindi è un riposo un po' curiore. Certamente è una cosa anomala, diciamo, ecco, ma però appartiene a una fase precedente. Anche quest'opera che vedete qui, che curiosamente si intitola Maternità, è dove troviamo queste figure senza testa, sono delle figure a cefale, addirittura vuote, potremmo dire, perché quella figura di bambina, quel vestitino giallo, che ha sulla testa, ci dà l'idea quasi che quello sia un vestito privo di corpo. Anche questo siamo in chiave surreale, diciamo, fantastico, che fa parte, insomma, di una ricerca personalissima dell'artista, che insegue sogni in realtà piuttosto che realtà. Ma poi la musica cambia completamente. Ecco, già qui, l'artista abbandona questa pittura, che potremmo sotto certi aspetti, per lei in particolare, definire tradizionale, e si pone nei confronti della pittura con un altro piglio, con altre armi, e vuol dire raccontare altre cose. Prima di tutto c'è un periodo in cui fa una pittura violenta, spessa. Ecco, qui per esempio lo vedete dalle luci delle ombre, che usa dei grumi, un colore spessissimo, e lo fa quasi, perché c'entra anche il discorso di genere maschio-femmina, e i maschi, sappiamo, sono sempre stati privilegiati, anche, e già Frida Kahlo ha fatto questo discorso, privilegiati in tutti i campi, ma anche in quello dell'arte e della pittura, e lei sembra quasi che voglia apparire mascolina in questa forza pittolica, in questa pittura quasi brutale, con questi grumi possenti con cui organizza lo spazio. Dopodiché passa alla serie dei ritratti, ed è una fase che dura più di dieci anni, che è stata raccolta soprattutto da una galleria privata, la OMR, una galleria di Città del Messico, che ha seguito questo lungo, lento, analitico lavoro che Monica Castiglio ha fatto per questo lungo periodo. Qui adesso vedremo tutta una serie di ritratti, di autoritratti, e lei, dove lei si propone, non già per, sì, in qualche modo per cercare anche la propria identità, ma non tanto come ha fatto appunto Frida Kahlo, per autoriconoscersi, per capire chi è, eccetera, ma è un'analisi molto curiosa che lei fa, pensando sempre alla pittura come referente fondamentale, che fa sulla superficie, per esempio in questo caso, tra l'altro questo ritratto curiosamente si intitola autoritratto dal lavoro, cioè come se questa fosse della bestia abituale di ogni giorno che lei si propone in questo modo, con la pelle scorticata, tolta in parte, con questi grandi occhi, ed è un tipo di approccio che lei incomincia a fare a se stessa, con se stessa, senza voler identificarsi al 100%, ma cercando di scavare con la pittura dentro, sotto di sé, per capire chi è, ma per capire sempre nel contempo, e in maniera fredda, in qualche modo, distaccata, e come la pittura può comportarsi per rendere al meglio la sua identità. Ecco, questo per esempio è un doppio ritratto, è sempre lei, è sempre autoritratto, e come si intitola questo ritratto, questo duplice autoritratto? si intitola curriculum. Lei segna il suo curriculum sulla propria faccia, e come lo segna? Con un codice particolare, con dei segni, che non sono neanche scrittura, e che poi, vedete, nella seconda faccia si ferma a metà, perché il curriculum è arrivato a Milano, ha occupato tutta la faccia. Quindi un altro modo di proporsi. Questa è vista, in questo profilo, ancora una volta, completamente senza la pelle, vista sotto, si chiama autoritratto anatomico, questo l'è intitolato così, e un'altra lettura, un'altra indagina, proprio una perlustrazione sotto la pelle, è il caso di dirlo. Questa è un'altra faccia, vista dall'alto, dove è autoritratto, è acqua, con acqua, la quale è acqua, se riuscite a scorgere i particolari, ma si vede bene, perché io non ho qua nel computer, ecco, me vengo meglio anch'io, c'è dell'acqua, ma non sono lacrime, come potete pensare, è acqua proprio, che scorre sul suo viso, e quest'acqua stranamente scorre da sotto in su, sale, anziché scendere. Come possa accadere questo? Non si sa. Cioè, sono delle posizioni, questo l'ho notato anche in altri artisti, artisti messicani, questa posizione così curiosa, strana, di fronte a certi fenomeni, e questa lettura del tutto individuale, insomma, di quello che sta anche attorno a lei, l'acqua, appunto, che lei la fa sgorgare, non normalmente, come dovrebbe accadere per un fatto semplice gravitazionale, ma un'acqua che sale, anziché scendere. O questo addirittura è una sorta di scatoletta, tipo, non so, porta cipria, quegli oggetti tipicamente femminili, all'interno del quale c'è lei, con il suo viso scomposto, occhi distaccati, naso per conto suo, pezzi di guancia, labbra che si staccano, che si scompongono. Cosa significa questo? E ancora un altro modo di vedere se stessa, inscatolandosi all'interno di questo oggetto, perché la sua ricerca, lo dice, anche lo dichiara in certe situazioni, la ricerca di sé, del sé, questa autoanalisi che lei porta avanti, la deve portare un po' alla volta anche fuori, vista intorno agli oggetti, le cose che la circondano, e tutto questo continua a fare ritratto, autoritratto. Questa è una serie di ritratti, questi sono ritratti con segni particolari. Ecco, se osservate, c'è alcuna ha un segno, una ha le guanci più rosse, una ha le labbra sporgenti, l'altra ha un segno sulla fronte. Quindi sono ritratti, una serie di ritratti, che si segnati particolarmente, con particolari segnali. Questo potrebbe addirittura pensare anche, non so, alle carte di identità, dove è scritto eventualmente segni particolari, viene aggiunto se c'è un segno particolare. È un'indagine a tutto campo, su se stessa, sulla faccia, sulla pittura, tutto inglobato insieme. Un'altra visione, qui non abbiamo più la scatoletta porta-porta oggetti personali di trucco o cose del genere, ma è diventata una valigia. L'autoritratto in valigia. E allora non è soltanto lei che è messa in alto sulla parte alta della valigia, ma qui ci sono anche gli oggetti personali, le maglie, le fotografie, quello che uno può portare con sé in una valigia e che fa parte di sé e che fa parte della sua identità. Ecco che allora la indagine dal puro volto si allarga ad altri oggetti circostanti. Qui ancora oggetti che riguardano la bellezza, il trucco e così via. Qui abbiamo una serie, in fin da sono 56 ritratti esattamente, questi non hanno segni particolari, ma sono diversi l'uno dall'altro, pur trattandosi sempre della medesima persona. E ancora, sempre se stessa, con leggere varianti l'una dall'altra. Ma vedete sempre impassibili, immobili, non c'è il coinvolgimento che è il suo emotivo, passionale, che potremmo trovare in altri artisti a partire da Frida Kahlo. Questa è proprio la fotografia da carta d'identità, potremmo dire. Qui è trattato con altri mezzi, anche con il ricamo, con altri sistemi, con altri elementi linguistici, potremmo dire, per ricavare ancora esiti diversi. Ho qui addirittura la faccia è nascosta, è coperta da questo insieme di fili, che, al di là dei quali, si intravede la chioma. Quindi il discorso si amplia, continua, esce da se stesso. Vedremo altri, come per esempio, questa è se stessa vista come altra persona. Quindi la modificazione, la trasformazione fisica, sia esterna, sia interna. Qui ancora un ritratto con l'acqua. Anche qui l'acqua sale anziché scendere. E qui, ancora questo, è tutta una creazione tridimensionale, quella che vedete, che è riprodotta qui. Poi le ha fatti anche veramente tridimensionalmente, delle facce, che sono come delle maschere, che si vedono sia di dentro, sia che di fuori, indagando, ripeto, da tutti i punti di vista, il modello che si riflette, che si rispecchia nella figura bidimensionale di fronte alla quale questa figura è posta. Qui ancora alterazioni, deformazioni del viso stesso, che spostando anche, giocando, direi anche con quelli che sono le alchimie del computer, anche se lei non lavora con il computer, ma sappiamo che il computer può darci di tutte le possibilità, tutte le varianti che vogliamo. Qui addirittura, autoritratto con taglio, l'immagine si spacca in due, è costituita di questi altri materiali, che sono materiali di filo, che riguarda, insomma, il lavoro femminile, se vogliamo, ma lei non è che vuole fare questo, cosa che farà un altro artista, di cui parlerò subito dopo, lei impiega tutti i materiali possibili e immaginabili per sempre autoindagarsi, sempre continuare su questo suo autoritratto. Questa è ancora una volta, questa sarebbe vista con una sorta di trascinamento a destra, e lo stesso anche a sinistra, la fotografia riporta soltanto una parte di quest'opera, solo la parte destra, e questo ci porta a un'altra esperienza, perché inglobando altri oggetti, inglobando altri strumenti linguistici, a un certo punto arriva al corpo, e farà una mostra anche intitolata La pittura e il corpo, e qui indaga come la pittura può essere rapportata al corpo, qui si tratta di una mano, e il titolo è curioso, ripetilo come stesso, più reale del reale, questo è il titolo, e questa mano ruvida, grossa che vediamo, ha delle tracce di colore, tra le pieghe della pelle, delle dita, e quindi a questo punto arriva un'identificazione tra pittura e corpo, che la porterà sempre più avanti a dipingere altre parti del corpo, e a vedere che reazione può avere il corpo di fronte alla pittura, se di movimento, di qualsiasi tipo di risposta, finché, come ultimo atto di questa implacabile indagine, direi, con se stessa e con la pittura, e col mondo circostante, arriva alla cortina di pittura, che nell'ultima mostra che ha fatto, praticamente copriva un'intera parete, una sorta di dripping all'Apollo, però in verticale, anziché in risontale, però con significati e obiettivi completamente diversi da Pollock. Non è la gestualità in sé, qua è l'ultimo stadio, quasi, di una pittura che si abbarbica sulla bidimensionalità di una parete, che scende, che è uscita da sé, che ha superato l'autorizzato, che è diventata pura pittura, è diventato living painting, cioè pittura vitale, pittura di vita. E questa è una cosa curiosissima, fra i tanti autoritratti, utilizzando tutti i materiali possibili e impossibili, che si possa immaginare, lei è riuscita a fare anche, sempre nell'ambito della ricerca d'autoritrato, un ritratto di unghie, quelle che vedete qua sono unghie. Come se li si è procurate, di che tipo siano questi unghie, di dove provengono, non ve lo so dire, anche perché talunni sono veramente molto grandi ed inquietanti. Non so se ha fatto crescere le unghie a qualche sua amica, o a qualche dopo le tagliate, se si è rivolta a qualche altra fonte per poterla comporre, comunque spero che riusciate a vedere, a capire, che sono tutti questi tondelli, queste strutture curve, sono unghie con cui ha costruito, vedete chiaramente il naso, la bocca, gli occhi, si individuano, insomma è un ritratto raggiunto anche in questo modo. L'artista oggi mi risulta non dipinge più, è diventata direttrice di una struttura culturale di Oaxaca, mi pare, e fa la curatrice o l'organizzatrice quantomeno nell'ambito culturale e soprattutto presumo pittorico. Bene, detto questo arriviamo a una generazione ancora successiva, Tania Candiani. Tania Candiani è un'artista che io non conoscevo prima, che ho conosciuto attraverso di voi che mi avete proposto appunto di parlare di lei, quindi mi sono data da fare per procurarmi le notizie necessarie e capire chi è Tania Candiani. Devo dire che sono rimasta stupefarta di fronte a questa artista e proprio dall'informale astratto di Irma Palacios alla concettualità assoluta, rigorosa e imperturbabile di Monica Castillo arriviamo adesso a Tania Candiani che rappresenta a 40 anni la nuova generazione e che veramente rappresenta un ulteriore nuovo mondo. Tania Candiani è un'artista che mi ha stupito da tutti i punti di vista perché dimostra degli interessi enormi delle intuizioni straordinarie e lavora in tanti campi delle arti visive fondamentalmente ma ricollegandole a tanti altri ambiti all'ambito del suono innanzitutto e della narrazione direi che l'elemento di base della sua ricerca e della sua espressività è la narrazione il racconto il racconto che poi per via di connessioni e di indagini parallele è riconducibile a tante altre situazioni per esempio un racconto un aspetto narrativo ce l'ha il tessuto per esempio che è fatto di intrecci di trama e di ordito e che nel tessuto racconta l'aspetto narrativo è nella musica nel suono e lei cerca nella sua ricerca è anche un po' difficile da spiegare queste cose cerca di unire questi ambiti e questi linguaggi diversi riportando i loro aspetti comuni in qualche modo e convogliandoli facendo diventare un linguaggio unico fondato sulla narrazione appunto sul tessuto narrativo dove il tessuto narrativo questa parola tessuto è basilare per capire una struttura un qualcosa che può essere suono può essere parola può essere scrittura può essere architettura perché aggiunge anche e molto interessata l'architettura a considerarla come un'espansione di tessitura di strutture di modi di espressività che naturalmente si coniugano in un altro modo raggiungono lo spazio si espandono in un'altra maniera e direi che tutto questo l'ha portata ad ambiti molto alti lei ha fatto è stata invitata al centro alla come si chiama un centro famoso di arte di città del Messico forse mi aiuti tu dove no forse l'ho scritto qui non mi ricordo più è un centro alla siccome io non lo conosco la parola mi sfugge beh un centro culturale molto noto a città del Messico dove è stata invitata a fare un grande progetto intervistato più volte a proposito di questo progetto lei quello che ha detto la cosa che mi interessa di più e che mi ha dato più soddisfazione è il poter lavorare con un sacco di persone di poter svolgere un lavoro in equip con persone che non sono artisti come me ma che perseguono altri obiettivi che indagano in altri campi come antropologi filosofi scienziati tecnici perché poi il discorso ultimo di tutto questo è la congiunzione di ricerca espressiva visiva della narrazione della tessitura dei linguaggi che si intrecciano con la nuova tecnologia ma non è solo questo è un discorso infinito perché lei rievoca molto il passato è molto legata a ciò che è stato specialmente l'ottocento l'epoca dei meccanismi degli automi delle macchine che sono il pregresso il presupposto di tutta la meccanicità e se vogliamo vogliamo anche pur in ambiti completamente diversi della tecnologia attuale e lei intreccia quello che si fa oggi le potenzialità enormi che ci sono oggi attraverso le nuove tecnologie con tecniche antiche con tecniche del passato con tecniche degli automi per esempio in questo grande del progetto che è fondato sul suono che sono 5 i titoli e 5 variazioni di circostanze foniche ecco proprio anche la scelta di queste parole sta a indicare la qualità della sua ricerca quindi si tratta di variazioni perché il principio di mutazione di trasformazione costante che è il principio della vita in tutti i suoi aspetti è alla base delle sue espressioni linguistiche trasformazione trasformazione e poi queste possibilità attraverso le tecnologie passate e presenti di creare un qualcosa che nel tempo diviene altro che può mutarsi e questo accade col fatto che molte persone possono e devono lavare insieme perché uno non può essere onnisciente sapere tutto quindi si avvale di altre collaborazioni dunque dicevo la stranezza della scelta del titolo di questo grande grandissimo lavoro tra l'altro questo lavoro è stato anche premiato l'anno scorso nel 13 dalla arsa elettronica di Linz che come saprete è uno dei più grandi anzi forse il più grande in Europa centro di ricerca elettronica per l'espressività artistica e l'ha premiata proprio per questo suo lavoro dunque circostanze dunque sì variazioni la trasformazione costante che è inato dovunque perennemente in tutte le cose trasformazione in circostanze foniche cioè circostanze non musica non suoni circostanze foniche cioè situazioni dove si intrecciano diverse svariate situazioni che diventano anche suono ma non sono solo suono perché questo suono può contenere parole può contenere altri tipi di tessiture di narrazioni e sempre in questa pluralità che poi è la conseguenza anche delle conoscenze che oggi abbiamo del mondo in cui viviamo che sono conseguenze della nuova scienza dei nuovi passi che sono stati fatti nella nella penetrare insomma diciamo la concretezza del mondo in cui viviamo e che fanno capo anche oltre alla teoria della fisica quantica la teoria del caos e soprattutto la teoria della complessità cioè immaginare oggi e in questo rivela la qualità della sua cultura l'aggiornamento perché io stimo un artista come questa veramente un artista che ha capito in che mondo siamo cosa vogliamo e cosa oggi è necessario per esprimersi artisticamente cioè secondo me veramente rappresenta un artista che meglio rappresenta l'attualità artistico artistica cioè l'arte non può limitarsi a fare con tutto il rispetto per tutto quello che è stato nel passato perché nessuno dirà che la pittura è morta o che non ha più senso no l'artista giovane l'artista che si guarda intorno che conosce le cose e che conosce soprattutto le tecnologie sente la necessità di esprimersi in modo complesso perché noi viviamo in un mondo complesso la materia è complessa la struttura del mondo e del cosmo in cui viviamo è complessa andiamo a vedere qualcosa ecco questo è l'organo che lei ha realizzato una struttura di nome perché tra l'altro vedete è una grandiosa installazione quindi un'opera impegnativissima che ha la tastiera davanti ma sopra la tastiera c'è una vecchia macchina da scrivere e per suonare questo organo cosa si fa? bisogna battere i tasti non del piano ma della macchina da scrivere vengono fuori dei suoni che però sono intessuti di parole quindi ecco che già qui è una circostanza fonica dove suono e parola si uniscono e formano un unico linguaggio ecco qui la persona adesso anche scorrerò rapidamente perché rappresenta ecco questo un altro aspetto sempre di questo organo grandioso che ha realizzato in questo centro di cui scusate mi sfugge il nome che però dopo l'ha realizzato anche all'Inse in Austria al centro di arte elettronica e queste sono delle postazioni questo è proprio all'Inse che è stato realizzato dove dentro in queste sorti di grandiose cuffie metalliche la persona che ci va ha delle dimostrazioni diciamo di queste sonorizzazioni complesse complicate costituite da vari linguaggi uniti insieme ancora altri aspetti delle canne qui ancora un aspetto di un altro strumento questo che vediamo qui è un momento di un allestimento di una mostra in cui lei ha fatto questo grande enorme rotolo per pianola ecco pianola uno strumento che non esiste quasi più oggi che però che è fatto strutturato in maniera meccanica attraverso questo grande rotolo che si srotola bucato e attraverso cui si compongono dei suoni che lei è rimasta affascinata da questa intuizione di tempo fa di come funzionavano le pianole ne ha fatto un progetto specifico è diventato una mostra qui è una fase dell'allestimento ecco questo e poi è diventato così questi rotoli che sono diventati rotoli infiniti con i buchi attraverso i quali facendo agire la pianola viene fuori la musica è diventato un'enorme installazione infinita che ha occupato un grandioso spazio questo è un intervento con una fotografia non troppo felice devo dire all'interno di un edificio di un albergo di città del Messico dove anche qua ha fatto una piattaforma sonora ispirandosi alle campane e che con una sonorità che da bassa gradualmente aumenta sempre di più e diventa completamento decoro se vogliamo con una parola storica una parola superata di questo edificio ma nel contempo ha una valenza architettonica ed espande attraverso il suono l'architettura nell'aria nell'ettere nello spazio circostante queste sono altre ricerche che li fa perché lei ripassando la storia passata e soprattutto la storia della donna in particolare recupera i mestieri tipici della donna come il cucire fare abiti il ricamare e così via e riprende riutilizza questi sistemi espressivi per raccontare per narrare altre cose attinenti alla contemporaneità ecco questo è un episodio su cui mi fermo un attimo ecco è tutta una serie di abiti che ha confezionato lei assieme alle sue collaboratrici tra l'altro lei ama sempre lavorare con un sacco di altre persone del posto specialmente dove è stata chiamata a fare il lavoro qui a Puebla in una fabbrica abbandonata tessile appunto dove lei vuole far rinascere questa fabbrica proponendo degli abiti facendo questa mostra dentro vedete che i muri sono sbrecciati il posto è fatiscente sicuramente e lei ha riproposto questa nuova vitalità attraverso questi vari abiti da lei e dalle sue collaboratrici confezionati qui praticamente una dimostrazione dei vari ricami che fa ecco perché poi ha fatto infiniti lavori ai quali tutti quanti non arrivo ad accennare alla meta sì è arrivato mi ha avuscolato aveva avuto un momento di impasse alla meta si chiama il laboratorio che tra l'altro è un laboratorio famoso di città del Messico si dicevo recupera il ricamo recupera il lavoro con il filo tipicamente femminile per tanto tempo nella storia naturalmente realizzato con macchine attuali in certi casi ha raccontato storie di donne queste storie anziché essere scritte con parole normali da qualche parte su un supporto diciamo più o meno convenzionale sono state ricamate qui fa parte di una performance la costruzione di questa sorta di grande bambola è una performance che ha realizzato tra l'altro con José Regina Galindo che è un'artista famosissima mi sembra colombiana che tra l'altro ha avuto un momento più che un momento di grande successo in una bienale di qualche anno fa hanno lavorato insieme si sono riconosciute tutte e due molto pulsanti direi nel produrre nel fare immaginare e creare arte vi faccio vedere una serie di disegni che molto spesso sono realizzati col filo sono cuciti questo è il piacere di mangiare e perché si è occupata di tutti anche qua dell'obesità evidentemente con queste immagini viste davanti e viste dietro e che sono come bombate sono come leggermente gonfie e quindi recupero ancora una volta altri disegni di bambini sì che viene pettinata che si guarda nello specchio cose che sembrerebbero quasi banali perché i suoi interventi sono estremamente vari insomma dall'organo che abbiamo visto grandioso monumentale e complicatissimo ai disegni realizzati però sempre con fili insomma con sistemi un po' particolari che comunque hanno attinenza come qua la storia la storia scritta su un tessuto su un corpo femminile e qua un altro dei suoi progetti si è divertita a creare con utensili domestici quasi dei caschi militari a volte e spesso anzi subentra l'umorismo il gioco il divertimento la presa in giro di certe situazioni del mondo in generale e questa vi faccio vedere di qualche anno fa risale al 2008 è una grandiosa installazione che ha fatto in Egitto lo vedete le piramidi sullo sfondo in occasione della Biennale Egiziana appunto dove ha fatto un intervento sul tempo con decine e decine di orologi tutti più o meno segnanti il medogiorno con qualche minuto in più con qualche minuto in meno lo scorrere e il travolgere del tempo ci sono altre immagini guardate e poi questo senso di infinito sulla sabbia su un deserto appunto senza fine e poi questo confronto il tempo che trasporre questa dimensione spazio-temporale con l'eternità se vogliamo delle piramidi in fondo io avrei però non vorrei superare in limite perché sono andata già forse oltre perché avevo altre artiste della mostra che attualmente è ospitata e che sono tutte interessantissime ma lasciamo le in sospesa grazie 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 al director general Mario Delinim, di Simoni, grazie a la cura Maria Capitilli, grazie a alcuni amici che per loro sono qui, Claudio e Dina, grazie, e a mia amica Cristina le grazie molto. Sto molto emocionata di essere in Roma, una delle grandi artisti, un esito storico della cultura occidente. No se si vamos a pasar il video prima o dico unas cuantas palabras. Però se quieren dico unas cuantas palabras e passiamo il video. Mis obras nacen di una necessità interior di creare un universo, basata in la memoria di ricordi e sogni. Come artista, mi obra sta comprometita con lo che mi radea, con la vita quotidiana e le persone con le che vivo. a fare di questa quotidianità momenti memorabili, e, essenzialmente, con la ilusione di che altri la incontri. La vita non solo è lo che facciamo dia a dia, conscientemente. Sono i sogni, i anheli e le illusioni che ci danno esperanza per descansare per le noche e despertare disposti a affrontare un nuovo giorno. Questi momenti di libertà che ci danno nei sogni, ci danno la possibilità di conoscere l'interior di nostra alma. È per questa ragione che lo considero come base di mio lavoro. In i sogni, la realtà si construye con sus propias reglas. Este mismo sentito lo encontramos nel lavoro. Cada quadro se construyò bajo sus propias necessidades e reglas, per lo che podemos encontrar in un mismo plano una città completa, rios, soles e lunas jugando armónicamente con los espacios vacíos, che, anche sono pocos e pequeños, compensano la saturazione di forme di elementi. Asimismo, la intenzione di poner tantos elementi sta relacionato con la idea di permettere che un momento congelato captato nel quadro contenga a su vez miles di instanti, per lo che posso señalare che un giorno con la sua notte o incluso una vita entera è un secondo fronte a nostri occhi. La memoria la tomo come un gioco di construzione. cada ricordo che accumuliamo durante nostra vita se va diluyendo e in alcunas ocasioni solo nos quedano immagini fragmentati di una storia. Apelo a che il espectatore vea i quadri elementi che lo remitano a sus propias storias a sus recuerdos e di tanto in tanto il ejercicio di questa memoria nos permette non solo recordare sino construir crear o recreare. Il color è una importante narrativa non importa se siamo frente a la gama de los grises la alegría del contraste lo compensa para generar movimientos e calidez e in alcunos casos se da una explosión de energia basada en un inmenso rojo che è asaltato por il azul che construye le edificazioni come non usar los colores puros e contrastar o armonizarlos se nos rodea la luz e il color in nostri vidas in mexico le regioni geografica se distinguen por mapas de color tenemos en el norte desértico colores como il blanco pardo ocre e arsenis contrastados con le regioni costeñas tropicali con colores más vibrantes vibrantes sin dejar de lado los verdes inmensos de las llanuras y bosques del centro del país son todas esas regiones las que encontramos en los cuadros y que construyen en el mapa un nuevo mundo así vemos la caída de una tarde sobre las calles de una ciudad las luces de faroles en una noche compitiendo con las luces enmanadas por las estrellas y al mismo tiempo podemos estar en un mundo en donde caminamos un poco para estar rodeados por el bosque el universo no podría ser imaginado sin color su composición sería imposible porque carecía de expresión mi obra es solo el pretexto para que se creen tantos universos como personas vean los cuadros y dialoguen con ellos como pintora tengo que coincidir con Leonardo da Vinci que en su cuaderno de notas se expresó que la pintura es superior a la poesía y a la escultura mi técnica es una técnica mística mixta con acrílico óleo collage hoja de oro hoja de plata barnizetas porque utilice estos materiales porque son los que fueron los que me transmitían a mí todo aquello de lo que quería hablar pero estoy abierta a explorar nuevas maneras de soluzione tanto de materiales como de proyectos el trabajo se realiza desde mí con todas las emociones y necesidades del momento que debía ser expresadas sé que me expongo y no de una manera tan material pero sé también que el espectador ósea el público tiene la libertad de entablar un diálogo con el trabajo y si sucede vale la pena todo lo realizado el tema gira alrededor de los instantes de mi vida momentos que compartir el artista no crea como vive vive como crea qué privilegio estar en Roma que como dijera el poeta es un museo al aire libre que nos hace vibrar lo mejor de nosotros mismos muchas gracias aplausos 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 aplausos